Salve, in questo video vi mostro come modificare un brano a partire da una semplice idea musicale, quindi creando delle transizioni lente o modificando le idea musicale di partenza per dare varietà al proprio brano. Mettiamo che la nostra idea musicale sia questa, molto semplice, un breve arpeggio. E mettiamo che io voglia farlo suonare a lungo. Il rischio è di ottenere un risultato monotono, quindi per evitare questa monotonia, quello che possiamo fare è aggiungere uno strumento musicale a cui assegnare questa parte. Andiamo a scegliere uno strumento musicale, adesso sceglierò un sintetizzatore. Possiamo scegliere questa voce o dal menu cercarne un altro. Va bene, una volta che avete scelto la parte, andate qua sul menu, cioè scusate, sulla traccia che volete ricopiare, deve essere evidenziata in blu, tasto destro copia o CTRL-C e poi andate nella parte di destinazione, viene evidenziata in blu, tasto destro, paste o CTRL-V. In questo modo, dopo che suona una, interverrà l'altra. Però per ottenere un effetto più graduale, la cosa interessante può essere di sovrapporre queste parti, stando ben attenti che la fine del loop coincida con l'inizio e quindi che le due parti musicali siano esattamente sincroni, cioè sovrapposte, in questo modo, qui, in questo punto, andremo a suonare contemporaneamente assieme. Bene, se noi andiamo a agire sul fade out, cioè sull'inviluppo, sul volume che diminuisce in questa parte qua, e sul fade in, vediamolo meglio, la manopola bianca che compare sull'estremità, quindi col volume che aumenta in questa parte qua, si otterrà un effetto di dissolvenza tra una parte e l'altra con un timbro che evolve gradualmente. Sentiamo una transizione lenta. Bene, possiamo un po' graduare i volumi per ottenere un effetto più efficace e possiamo proseguire con questo principio aggiungendo nuovi strumenti e quindi ottenendo sempre la stessa melodia, ma un effetto di continuo cambiamento. Vado, quindi, seleziono, tasto destro, copio, vado qua, lo seleziono, è evidenziato, tasto destro, incollo, paste, e la stessa cosa qui succederà successivamente con questi due strumenti. Bene, più sono lenti le transizioni, più l'effetto è efficace, quindi vi consiglio di prolungare questi loop e di aumentare la sovrapposizione in maniera tale che il passaggio da una parte all'altra sia più graduale e risulti quindi più efficace. Va bene, e questo è un aspetto. Un'altra cosa che si può fare è, per esempio, modificare l'altezza, l'ottava in cui suona una parte. Come si fa? Mettiamo che in questa terza parte io voglio cambiare l'altezza, vado su Edit, Change Pitch, Pitch vuol dire altezza, è in ordine di semitoni, quindi, tasti bianchi e neri, da un'ottava all'altra, non sono 8 ma sono 12, quindi se io indico Change Pitch e poi scelgo 12 meno, vuol dire che invece di ottenere un Do centrale otterrò un Do notava sotto. Proviamo a sentire l'effetto. Benissimo. Infine, un modo per modificare il timbro strumentare nel tempo è aggiungere un effetto di Automation. Eccolo qua. Da questo pulsante qua, se lo vado a selezionare, per esempio, Sweep vuol dire un filtro che ne avete diversi, è un filtro che ottiene un suono che può essere più nasale o meno. Ecco, anche questo offre la possibilità di fare delle graduali cambiamenti del timbro. Ascoltiamo. Infine, se volete, potete copiare di nuovo adesso vado a riproporlo sempre nella parte di pianoforte la vostra traccia e poi provare delle soluzioni che vanno a modificare un po' la traccia iniziale. Per esempio, un'idea può essere quella di modificare la durata dell'arpeggio. Questo è composto da otto note. Se io vado a ridurre a Just End in questo modo posso cambiare il numero delle note. Ebbene, questo può creare un effetto di sovrapposizione interessante creando quella che si chiama una poliritmia, due ritmi diversi che si sovrappongono. Si crea un effetto un po' di confusione ma può essere comunque un aspetto interessante. Faccio l'ultimo tipo di sovrapposizione, aggiungo per esempio un basso e proviamo a cambiare l'ottava lo incollo incollo questa parte cambio ancora l'ottava posso ripeterlo più volte 12 toni sotto ma ancora un altro 12 semitoni scusate, altri 12 semitoni e poi cambio ancora la durata in maniera tale da tenere un effetto di sovrapposizione che può essere un po' confuso ma interessante. Bene, è chiaro che questo genera un po' di diciamo accumulazione di materiale che deve portare a un certo punto a una conclusione o a un cambiamento di direzione. Ancora un'ultima cosa che potete fare è lo incollo qua la parte nuova ho fatto ctrl c e ctrl v un'ultima cosa che potete fare a un certo punto è di cambiare proprio l'altezza senza andare a scegliere un'ottava sotto ma scegliendo un altro valore per esempio due semitoni che significa un tono sotto e quindi qui cambierà proprio la tonalità del brano e chiaramente c'è un passaggio successivo a una situazione differente bene queste sono alcune modalità che abbiamo visto per ottenere delle transizioni lente e trasformare una semplicità musicale in qualcosa di più lungo elaborato e complesso di più di più